ciao a tutti amici io sono Filippo Cascio e questo è il canale saper fare per chi non sa la powerstation è una batteria grossa all'interno con una scheda inverter dove attraverso questa diciamo così questo involucro è possibile avere la 230 volt in qualsiasi posto dove vogliamo perché trasportabile come vedete molto leggera almeno questa perché piccolina sia di potenza ma anche come capacità quindi le powerstation permettono di avere appunto la 230 volte come quella di casa in qualsiasi posto dove andiamo la cosa bella è che possiamo avere anche delle prese a 12 volte come la batteria dell'auto e le prese usb per caricare il telefono questa è la powerstation sommariamente descritta in questo modo ovviamente poi ci sono le prese d'ingresso dei pannelli che possono essere collegati appunto per caricare tramite pannelli fotovoltaici oppure tramite l'auto 20 e quindi avere la macchina sempre carica e portarci a dove vogliamo ma non parliamo di questo parliamo di cosa conviene tra una powerstation dentro casa e un impianto fotovoltaico vero e proprio ebbene la distinzione tra powerstation e impianto fotovoltaico dobbiamo farla subito è abissale perché l'impianto fotovoltaico se creato in una certa maniera avendo anche a disposizione molti metri per poter posizionare pannelli abbiamo un impianto molto migliore rispetto alla powerstation ma dobbiamo anche fare presente un'altra cosa che ad esempio gli impianti fotovoltaici spesso d'estate specialmente quando sono con l'immissione in rete hanno problemi con il gestore e quindi si possono bloccare e quindi non produrre addirittura energia quindi molto spesso può capitare d'estate soprattutto nelle giornate soleggiate che si può verificare questo distacco diciamo dalla dalla rete e quindi diciamo ci sono diversi problemi però ovviamente l'impianto fotovoltaico è sempre da preferire quando si è soprattutto abitazione propria e quindi non si è a casa in affitto e quindi si ha a disposizione un ampio diciamo tetto dove poter posizionare pannelli però ci sono i pro e i contro quindi i pro ovviamente perché c'è più potenza da poter posizionare e molto di più a livello anche di capacità di batterie però dobbiamo anche dire che i costi a secondo del tipo di impianto sono molto diciamo così più costosi rispetto alla powerstation però molti mi fanno appunto questa domanda a chi conviene avere una powerstation ebbene la powerstation conviene soprattutto a chi non ha una casa di abitazione propria e magari non vuole appunto mettere troppi pannelli e crearsi quantomeno un piccolo impianto fotovoltaico riducendo i costi della bolletta quasi del 50 per cento si può dire anche di più del 50 per cento in alcuni casi tutto dipende dal tipo di powerstation che andiamo a montare ad esempio se prendiamo una fossi bot il modello f3600 che adesso è uscita la 3600 pro che ha solo delle piccole differenze tra l'una e l'altra a 3600 watt di potenza in uscita e ben 3800 watt di accumulo quindi come come capite insomma è una buona powerstation che addirittura supera il classico contatore di casa come potenza sempre 230 volt con onda sinusoidale pura e abbiamo a disposizione le prese a 12 volt le prese usb abbiamo tante cose a disposizione rispetto a un impianto fotovoltaico che magari manca quindi conviene a chi magari appunto ha un tetto piccolo e quindi non è a casa propria e allora vuole fare un piccolo impianto secondo me la powerstation molto più indicata rispetto a un discorso di fotovoltaico ma soprattutto nei costi perché per esempio la fossi bot f3600 al momento che sto facendo il video costa 1599 euro acquistandola direttamente dalla fossi botte oppure da altri siti che ci sono in giro su internet e avete già una powerstation con tutta la batteria e tutto quanto se dovete comprare una batteria da 5 kilowatt dovrete spendere sempre quei 2000 euro circa solo la batteria tra pannelle e poi inverter supereremo i 4 5 mila euro mentre con circa 2500 euro possiamo fare un impianto già buono con una powerstation come dicevo poco fa la fossi bot f3600 e quattro pannelli collegati alla stessa macchina in modo che possa caricare direttamente la macchina ma nello stesso tempo produrre anche energia elettrica in uscita sì perché la powerstation non solo immagazzina per caricare la batteria ma riesce anche a fornire corrente elettrica in base ovviamente anche al consumo in uscita perché se ad esempio abbiamo un ingresso di 2000 watt nel caso della powerstation fosse botte f3600 e un'uscita di 2000 watt è chiaro che si compensa e quindi non carica la batteria perché l'ingresso va a finire in uscita ma se in quel momento non credo che utilizziamo sempre 2000 watt di continui in quel momento magari abbiamo un più un consumo di medio di 5 700 watt e parliamo ovviamente di giornata soleggiata e abbiamo un ingresso di 2000 watt vuol dire che non solo caricherà la batteria ma nello stesso tempo fornirà anche l'energia elettrica per quel carico quindi anche se superiamo il carico ovviamente poi sarà la batteria a intervenire e dare corrente appunto a tutto l'impianto bene un'altra cosa che volevo dire la powerstation è più adatta anche a gente che per esempio utilizza il camper oppure chi fa mercatini tipo che fa le fiere e tutto quanto la powerstation è molto indicata rispetto anche a un classico diciamo così inverter con motore a scoppio poi tutto dipende dal tipo di consumo che avete nel diciamo in quel momento sul sul mezzo ad esempio quella che ho io qua è una okitel p12001 e a 1200 watt in uscita di potenza massima con 2000 watt circa di spunto e un accumulo di 1000 watt orari quindi significa praticamente se io prendo un televisore che consuma 100 watt dopo dieci ore praticamente si spegne perché è chiaro che il consumo va in watt orari quindi abbiamo dieci ore di autonomia con la batteria carica di questa powerstation figuriamoci una powerstation come la okitel p5000 che a 5 kilowatt di accumulo praticamente abbiamo si può dire 50 ore di utilizzo del televisore quindi tutto sta al consumo e quindi la powerstation è conveniente soprattutto quando non si è a casa propria e quindi non abbiamo molto spazio soprattutto sul tetto per per installare il fotovoltaico a secondo il tipo di powerstation ci vogliono dei pannelli quindi questa ha un ingresso massimo di 500 watt e quindi possiamo acquistare un pannello da 500 watt e avere una carica completa nel giro di circa cinque ore ovviamente non utilizzando la powerstation diciamo con un carico eccessivo rispetto ai 500 watt bene se questo video ti è piaciuto metti un like come al solito ti invito a iscriverti anche nel canale youtube saper fare se non l'hai fatto e attivare la campanella per essere sempre aggiornato dei nuovi video quindi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti amici di ciao a tutti amici